E' cambiato tutto in meno di un mese. A noi è cambiato tutto in 24 ore. Allora, il rapporto di stamattina va bene, nel senso che siamo scesi sotto a 40. Finalmente abbiamo solamente 35-36 persone in pronto soccorso. Questo virus presenta una realtà che è difficile da accettare. Quindi, nella giornata di oggi dobbiamo cominciare a mandare su dei pazienti al nuovo reparto Blumen. Andremo su dei ventilati, ma penso non solo quelli. Di fronte a una cosa come questa puoi fare solo due cose. O ti arrendi, oppure cerchi di gestirla. Mi raccomando, facciamo attenzione a questi particolari. A breve finiremo il percorso, come sapete. Oggi, da parte in giro sperimentale, funziona. Molto presto saranno pronti i nuovi ingressi per quanto riguarda l'ingresso degli sfogliatori. Poi quando, così sarà, faremo tutti quel percorso lì e sarà decisamente meglio. Domanda di lito, come al solito. Quanti dei presenti hanno prenotato? Sono andati o hanno fatto la telefonata per programmare l'incontro di Couseling? Per favore, sulle mani. Sempre troppo pochi. Quindi, cortesemente prenotate, perché questa cosa è importante. Va bene? Domande? Buongiorno. Posso accendere le luci? Sì? Sì? La faccia ripoldare un pochino. Sì?